raga alla fine mi sono levata le trecce perché non mi piacevano come le avevo fatte però comunque dopo vi farò vedere il tutorial di come le faccio comunque abbiamo appena realizzato un video infatti si può notare i miei capelli perché abbiamo fatto un sacco di cambi look presto uscirà poi lo vedrete e nulla voi cosa fate di bello come andate a scuola fateci sapere che non che in su vita ha bregato con eso lo fuertes l'aiere che sempre vivia impidia explotando il peso io ten la gra di una sola botella no me hagas no corren a na 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 no se busca na 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 amigo me enamoré de una chica una dama un poco grande para mi pero me encanta ayúdame por favor a conquistarla la 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 amigo voy a ayudarte voy a darte un consejo yo soy experto en el amor raga noi stiamo facendo merenda con yo yo e e vai chiamala mamma vieni qui che ti regaliamo uno dei nostri stickers yo yo scegli quello che ti piace più cute trigger belli però non so cosa significa no ok allora io direi che per te è perfetto ok boomer eccolo qua comunque noi dalle 5 fino alle 6 saremo in radio con jason è la nostra prima volta per cui non vediamo assolutamente l'ora siamo super emozionate e voi non potete non esserci quindi vi lascio lo swipe up così vedete tutto in live e niente ci vediamo wow ok c'è poco vento oh mio dio non ci credo piove anche fantastico laga abbiamo conosciuto il tiktok con lui oh no con lui non si ricorda neanche talmente trio jason cognome jason eh dai il prossimo domani non sai cosa fai stasera no quindi vuole che ci pacchi no vieni eh ok raga poi vi farò sapere se verrà o no possiamo dire che è uscito un tiktok insieme o no si possiamo dirlo possiamo dire il trio is back bellissimo è It's beginning to look a lot like Christmas It's beginning to look at Christmas It's beginning to look at Christmas It's beginning to look at Christmas